cari amici sono nel bosco da stamattina non con la speranza di trovare dei funghi ma semplicemente per verificare lo stato per esempio dei torrenti dell'acqua abbiamo visto ve lo farò vedere ancora è completa gli alberi sono completamente secchi allora mi sono detto ma perché non andare a cogliere delle more che è il periodo sono belle succose sono belle mature eccole qua eccola e allora io sempre non tornare con le mani a vuoto mi metto qua raccolgo queste succulente more e mi passa l'incazzamento arrivederci